spesso noi arriviamo per il giardino del nostro cuore alla ricerca di qualcuno ma poi improvviso ci sentiamo così soli perché nessuno viene a fare visita a me attraverso i miei cancelli perché portone è chiuso ma se non apri il portone non si vede neanche che sei dentro è troppo alto apri sto portone sì ma come mai nessuno viene a farmi visita neanche un viandante passeggero un cavaliere errante un venditore di surgelati guarda che è venuto ieri quello della bofrost suonato a campanello ma non funziona e non ti fai trovare o gabbiano o vita sola o fiore nel deserto ma si ma deve uscire un pochino dai che c'è la primavera stai qua a fare tutto il tempo ma come vuoi fare a vedere della gente mi non so o solitudine o me il capilo a me sembra più mona che tappino eh però che fai tu esci un po' dai ma conno dai oh ok ok Grazie a tutti.